Una parola di speranza e di fiducia non sono delle illusioni. Ecco perché in vista delle elezioni amministrative regionali del 31 maggio, l'Azione Cattolica Italiana della Regione Puglia ha rivolto ai cittadini e ai candidati una parola di speranza e di fiducia che motivi ciascuno all'impegno concreto per la realizzazione del bene comune. I percorsi formativi che l'Azione Cattolica promuove all'interno delle 19 associazioni diocesane di Puglia sono sempre caratterizzate dal voler affrontare e condividere con la società civile i temi che stanno più a cuore alle persone e alle comunità. Ecco perché l'Azione Cattolica in vista delle prossime amministrative chiede proprio che questi temi entrino nell'agenda politica dei prossimi amministratori pubblici. A partire dalla famiglia e dunque al sostegno alla vita come reale attenzione ai principi che regolano la vita delle persone e quindi della comunità civile. Il lavoro come recita l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica che sia veramente fondante del nostro essere cittadini pugliesi e d'Italia. L'ambiente che è quello spazio che abitiamo e che ci appartiene e che in quanto tale ci stimola a saper custodire il creato. E poi ancora la legalità, lo sviluppo economico e l'immigrazione. Senza tralasciare la questione morale. E sì perché i molteplici fatti di cronaca relativi alle questioni giudiziari che coinvolgono i diversi soggetti politici senza distinzione di colore e tutte le istituzioni pubbliche sollecitano l'emergere di una questione morale che diventa sempre più prioritaria nell'agenda del Paese e dei diversi schieramenti politici. Le statistiche e i dati relativi all'astensionismo esprimono uno scenario che racconta di persone che perdono sempre più fiducia nelle istituzioni e nella politica. E questo porta ad una perdita di interesse per la vita del Paese. Pertanto se da un lato come cittadini bisogna riacquisire il valore civico del voto e della partecipazione alla vita politica del Paese, dall'altro le istituzioni devono garantire alcune partecipazioni e ripulire dal fango i luoghi della vita politica del Paese stesso. E poi, si legge ancora nel comunicato a firma di azione cattolica, ci sono alcune questioni reali che alimentano la sfiducia dei cittadini. I metodi con cui si giunge alle candidature e accordi tra i partiti che rendono difficile un reale dibattito costruttivo sulle questioni del territorio. E ancora il pasticcio sulla questione dei cosiddetti vitalizi per i consiglieri regionali, nonché la nuova legge regionale elettiva che di fatto abolisce le liste di parità di genere. Da ultimo poi c'è la questione educativa. Viviamo un tempo in cui è necessario saper sviluppare un vero e proprio patto educativo per il bene del Paese. Un'opportunità per tutti, rappresentanti politici, amministratori locali e cittadini. Un impegno serio e responsabile di tutta la società civile, senza distinzioni di ruoli e di appartenenze politiche che guardi al presente e al futuro delle giovani generazioni. La delegazione regionale, dunque di azione cattolica, augurandosi che questo gap di confronto e dibattito sia recuperato nei giorni che ci separano dal voto, sottolinea inoltre anche l'enorme difficoltà del Paese a rinnovare la propria classe dirigente e a realizzare un sistema maturo di rappresentanza politica che non sia una gabbia per la libertà di espressione e di coscienza. Di qui dunque l'invito ad impegnarsi tutti per la realizzazione del bene comune.